3 e mezza, vengo, vuole un po' se non viene più. Dai, vuole un po' luce. Non c'è nulla, vuole un po' luce. Non c'è nulla, vuole un po' luce. Lascialo a perdere. Non c'è nulla. Non c'è nulla. Non c'è nulla, non c'è nulla, tutti. I cartellini, questi che li avevano veniti. Tutti! No, vabbè. Mi sa che ho i cartellini in testa, attaccati i capelli, che non si taglia, se li vado a mettere. Fai l'occhiolino, vai! Sì, papà! Orate quel vecchietto, se non è il bambino. No, di questo anno mi faccio tenerezza, mia. Guarda, lui è il bambino piccolo. Ah, lui è bello, è il ritorito, ehi? L'occhio, dai. Oh, mi mancazza, ma guarderò proprio. No, Mirella. Il ritorito è un jolly. Non lo vedevate con le orecchie picate. Dai, stanno arrivando, stanno arrivando. Vai, Mirella! Vai, vai, vai! Batti, ma che sta a battere la tua voce. Perché? C'è successo? C'è successo? C'è successo? Oh, no! Sì, di loro? Ma no, contro i nostri. No, quello là...